radio nostalgia presenta pasticciando con il bando penultima puntata di questa stagione 21 22 di pasticciando con il bando buongiorno ad alessandro bandoni buongiorno andrea buongiorno a tutti e tutte pronti per alietarvi anche stamani con una rucetta rucetta non era un brutto giuro una ricetta gustosa che cosa ci prepari ale una mousse di kiwi alice non c'è più voglia basta che ve lo dici interrompiamo prima una mousse di kiwi la so fare anch'io cioè prendete 5 kiwi 5 kiwi ok li sbucciate esatto vediamo se imparato li sbucciate poi li mettete in un mini pimmer no aspetta aspetta vediamo l'anima si l'anima va tolta perché come dice elisa l'anima vola nel lozzo perché è dura nell'organico mi raccomando non sbagliate ok si scherza vai ale di come si fa mini pimmer mini pimmer vedi che avevo lo speaker si sente ok montiamo la panna poi prendiamo tre albumi d'uovo ah l'uovo non l'avevo considerato non l'avevo considerato ma adesso ci pensiamo no 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 è impossibile impossibile che ci penso montiamo a neve tre albumi con 100 grammi di zucchero ok ok addizioniamo gli albumi alla panna spero che per l'inquadratura non sia venuto quel gesto ci sono i bambini a quest'ora gli albumi alla panna li addizioniamo li addizioniamo a stamani tra kiwi cerchiamo una logopedista una logopedista per bandoni anche per se ci stamani che non è che proprio ma perché a stare con lo zoppo in panni allora albumi panna kiwi ok mescoliamo tutto insieme sempre nel mini pimmer no 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 con la marisa dall'alto verso il basso la marisa la famosa marisa se siamo un po più golosi un po più estrosi un mezzo bicchierino di rum quelli non è estrosi è alcolizzati è un'altra cosa ora cioè vabbè ok poi possiamo metterla in congelatore un paio d'ore un paio d'ore voi vedete fare una cosa veloce ma un paio d'ore ci va benissimo e poi ce lo gustiamo e poi ok la ricetta che abbiamo dato non data la cazzo come abbiamo fatto stamani in diretta la trovate sul nostro sito radionostalgia.fm lì trovate migliaia di ricette perché sono anni di sette anni di sette anni che lo reggo c'è anche lui legge me se non mi vedete più signori martedì prossimo ultima puntata poi torniamo a settembre quindi l'ultima puntata saranno tutti i saluti perché non c'ha voglia di far niente da almeno due mesi almeno due mesi ciao radio nostalgia vi ha presentato pasticciando con il bando